Le elezioni regionali in Campania, in particolare nella circoscrizione di Caserta, sono un difficile banco di prova per chiunque. Lei ha deciso di mettersi in gioco. Quale molla è scattata che l'ha spinta a candidarsi? Nessuna molla in particolare, perché ormai sono da anni, sono oltre 12 anni che io cerco di dare il mio contributo personale sul territorio. E questo lo faccio veramente con grande passione e non mi dà peso, non mi procura nessun tipo di fastidio. So che comunque lavorare sui territori è impegnativo, soprattutto perché nei nostri territori c'è tanto da fare. Ciò che mi spinge ormai da oltre 12 anni è sicuramente l'amore che provo per il mio territorio, l'amore che provo per la mia città, l'amore che provo per l'agro Aversano. Ed è per questo che vorrei ancora una volta contribuire affinché io possa dare voce alle reali problematiche che sono ogni giorno sempre più evidenti nel nostro paese. Lei ha sempre militato nell'area politica di centrodestra, oggi è in corsa nella lista della Lega. Perché ha sposato il progetto di Salvini? Ho sposato il progetto di Salvini non perché voglia comunque dare meriti particolari a chi invece viene sempre denigrato, soprattutto qui nelle nostre zone, in quanto Lega, in quanto proveniente dal Nord. Salvini è una persona che si presenta da solo nei suoi pregi e anche nei suoi difetti perché è un essere umano come noi. Ma ciò che mi ha spinto è sicuramente stata la sua voglia di venire a confrontarsi qui con noi, con gente del Sud, perché ha capito che evidentemente c'è tanto lavoro da fare. Non perché noi amministratori del Sud non l'avessimo capito, ma perché fino ad oggi se tanti amministratori alla regione Campania ci sono stati, certamente non sono stati del Nord. E se oggi noi, quando dobbiamo curarci, andiamo nelle strutture ospedaliere del Nord è perché evidentemente qualcosa di buono è stato fatto. Non dobbiamo dimenticarci che chi ci ha governato fino ad oggi è stato sicuramente sia a destra che a sinistra, ma comunque diciamo una classe politica che è nata dal nostro territorio e sul nostro territorio. Ecco, io allora spero tanto che il modello della buona politica, delle buone regole, della buona osservanza venga anche praticata da noi. E questo lo si può fare soltanto se cambiamo il nostro modo di pensare e il nostro sistema. Deve essere un sistema che deve vedere tutti, appunto, come dire, propositivi in uno stesso intento, cioè vale a dire quello di ridare dignità ai nostri territori martoriati. Vorrei inoltre aggiungere che da quando ho iniziato il mio tour le varie critiche che mi vengono mosse non è né per il programma e né per i contenuti, bensì per la figura di Matteo Salvini. Io credo che sia ora veramente di finirla, di dare le colpe e di dover criticare un personaggio che fa politica solo perché è del Nord. Non dobbiamo considerare Matteo Salvini Lega e quindi una persona distinta e distante dal Sud. Io mi sono candidata con la Lega Salvini Premier ma mettendoci la faccia e facendo sì che i miei elettori possano avere me come riferimento, come è sempre stato da 12 anni a questa parte, sul mio territorio. Quando ci sono state delle problematiche io sono stata presente e di conseguenza voglio appunto rassicurare tutti che non c'è bisogno di criticare senza conoscere. Siamo persone, donne e uomini del Sud e staremo qui a disposizione per il nostro territorio. Durante la sindacatura del compianto Saiocco ha ricoperto la carica di vice sindaco di Aversa. Dopo un anno di mandato il primo cittadino Golia e la sua giunta hanno deluso le aspettative anche di chi ha votato per il centro-sinistra. Lei che voto dà l'attuale maggioranza che governa Aversa? Allora innanzitutto io faccio un saluto ad Alfonso, mio caro amico, persona per bene e veramente un ragazzo dalle mille qualità. La politica purtroppo non spesso è insimbiosa con le attitudini personali di una persona, di un essere umano. Nel senso che Alfonso credo che possa fare tanto e possa fare bene, ma purtroppo per lui ha fatto alcuni errori. Cioè si è, a mio avviso, circondato da persone che invece fanno davvero molto poco e gli rendono difficile la vita da primo cittadino. Io ritengo che un sindaco debba contornarsi di persone che siano della città, che siano di Aversa. È inconcepibile prendere persone che vengano fuori dalla città, che non conoscano i problemi del territorio e che non vivono la città di Aversa. Gente che va fuori, va in Kenya, va altrove e non si cura delle sue deleghe, alla cultura, alla pubblica istruzione. Abbiamo degli assessori che sono completamente assenti, ma forse neanche per colpa loro, perché effettivamente vivono in maniera difficile il territorio.